. Ued, Mazzocchi potrebbe aver commesso una gaffe e svelato la scelta di Luigi, la Capuano. Svelate involontariamente la scelta di Luigi Mastroianni? Un leak ricevuto su Instagram lo confermerebbe. . Dopo la scelta di Teresa Langella trasmessa lo scorso 15 febbraio è ora la volta della dichiarazione di Lorenzo Riccardi. La scelta di questultimo sarà trasmessa nel corso dellappuntamento serale dello speciale Uomini e Donne il prossimo 22 febbraio. Dopo la trasmissione dei primi due appuntamenti, non resta che attendere il fatidico momento di Luigi Mastroianni che, durante lultima registrazione del trono classico, sia dichiarato ormai pronto a portare a termine il proprio percorso. Chi sarà la scelta di Luigi? Ad aver rivelato indirettamente il nome potrebbe essere stato il suo grande amico, Giordano Mazzocchi. . Ue di la scelta di Luigi Mastroianni, un gesto di Giordano Mazzocchi potrebbe rivelarla. . Dopo circa cinque mesi dal trono, chi sarà la scelta finale del tronista Luigi Mastroianni? È questo un quesito che il pubblico di Uomini e Donne non riesce a risolvere. . Se per certi versi Luigi si è dimostrato molto vicino ad Irene e in altre circostanze il tronista ha fatto credere di essere interessato altrettanto alla news entry Valentina. . 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